Ogni giorno davanti ai nostri occhi scorrono scene di violenza, volti senza pietà, cuori induriti e desolati. Abbiamo bisogno di ricordare che Dio Padre pensa a tutti e vuole la salvezza di ogni uomo. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano i partecipanti al capitolo generale della Società dell'Apostolato Cattolico. Ricordando l'esempio del loro fondatore, San Vincenzo Pallotti, il Pontefice ha chiarito che ogni membro della famiglia Pallottina oggi è chiamato a risvegliare la fede e riaccendere la carità, specialmente tra le fasce più deboli della popolazione, ponendo come fondamento della propria esistenza la persona di Cristo. Contemplando la vita di Gesù e guardando la nostra vita di pellegrini in questo mondo con tante sfide avvertiamo la necessità di una profonda conversione e l'urgenza di ravvivare la fede in Lui. Solo così potremo servire il nostro prossimo nella carità. Ogni giorno siamo chiamati a rinnovare la fiducia in Cristo e dalla sua vita trarre ispirazione per compiere la nostra missione. Perché Gesù è il primo e il più grande vangenizzatore.